Un dipendente della Camera di Commercio di Catanzaro ST, 62enne, è stato posto ai domiciliari e poi, dopo l'udienza di convalida, è stato interdetto dai pubblici uffici per un anno con l'accusa di concussione. L'uomo avrebbe incassato somme in debite da un imprenditore che era in difficoltà. Il 62enne è stato fermato mentre incassava i soldi dall'imprenditore a cui stava risolvendo il problema che quest'ultimo aveva con l'Inps. Alla ricostruzione dei carabinieri di Catanzaro Lido nel 1994 l'imprenditore aveva chiuso il proprio ristorante e si era trasferito in Germania. Lo scorso anno, causa di una svista burocratica risalente all'anno del trasferimento, l'Inps gli richiede 300 mila euro per il mancato versamento degli oneri previdenziali maturati dalla data di chiusura del ristorante fino al 2018. L'imprenditore e la ricostruzione degli investigatori decide quindi di rientrare in Italia per tentare di risolvere la questione e si reca la Camera di Commercio di Catanzaro. Il dipendente inizialmente dice che non si può far nulla, poi però gli prospetta una soluzione per cui il debito si può cancellare. Però mi dovete dare il 10% della somma pignorata, ossia 30 mila euro. Vista l'impossibilità dell'imprenditore a corrispondere a tale somma, l'impiegato propone un'alternativa. Se la partita IVA non l'ha adoperata negli ultimi 10 anni, c'è una legge a suo favore. Basta pagare un contributo di 4 mila euro che naturalmente incasso io e se mi dai gli altri 2 mila euro, chiudiamo la pratica cancellando tutto. La prima parte del denaro viene consegnata nel 2018 con un pagamento di 1 mila euro. L'imprenditore continua a versare altre somme di denaro nel corso dell'anno, ma poi si rende conto della condotta illecita dell'impiegato e si rivolge ai carabinieri della stazione di Catanzaro Lido. All'ultimo appuntamento si sono così presentati anche i carabinieri di Catanzaro Lido, coadiuvati dai colleghi della stazione di Catanzaro Santa Maria, che hanno accertato il passaggio di denaro riscontrando che il dipendente della Camera di Commercio si era impossessato delle banconote dell'imprenditore precedentemente fotocopiate.